Bentrovati, bentrovati a tutti, vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro canale youtube, ci avviciniamo a questa finale mondiale tra le due squadre che molto probabilmente in questo momento sono le due squadre più forti, poi il mondiale è una competizione un po' particolare, in quel mese deve girarti tutto alla perfezione, devi non avere infortuni devo dire che la Francia per esempio li ha avuti ben prima, gli infortuni con gli assenti Pobba, Kanté, Benzema, nonostante questo ha fatto un campionato del mondo grazie ai solisti anche a un gioco di squadra molto compatto, molto coeso con Griezmann che abbiamo visto ha fatto davvero il giocatore universale. Per vincere queste competizioni occorre anche questo, anzi occorre soprattutto questo, oltre a un grande gruppo che non ha avuto la Francia nell'ultima edizione del campionato europeo, però potrebbe fare questa doppietta mondiale straordinaria, però di contro c'è l'Argentina che probabilmente ha l'occasione che capita che non ha avuto, l'ha avuta in passato, ma questa potrebbe essere anche il suggello finale di una carriera straordinaria, di un numero 10 che ci ha fatto vivere qualcosa di incredibile dal punto di vista calcistico. Leo Messi, credo che il calcio alla fine toglie ma poi ti dà ciò che si è sempre detto di Leo Messi e che con l'Argentina non era mai riuscito ad essere decisivo fino in fondo, nelle competizioni. Credo che questa possa essere l'occasione giusta, insomma, gli dei del calcio dovessero guardare giù, potrebbero davvero incolonare Leo Messi come degno rete di Diego Armando Maradona. Credo che, questo però ovviamente senza alimentare ancora discussioni su chi è meglio di, ma credo che dal mio punto di vista Leo Messi è quello che più mi avvicina e mi ricorda, Diego Armando Maradona, superiore o meno, non lo so, però credo che veramente ci sia questo fil rouge tra due argentini che hanno fatto sognare un intero popolo e possa essere questa l'occasione per l'Argentina, senza voler ovviamente parteggiare per l'una o per l'altra, per la Francia di Mbappé o per l'Argentina di Leo Messi. Credo però che Scaloni abbia fatto davvero un grande lavoro. Il capitolo mondiale si è, diciamo così, riverberato anche sul mercato, nel senso che adesso si parla molto dei marocchini che hanno fatto un campionato del mondo straordinario, anche contro la Francia, direi una partita davvero all'altezza, con una capacità di stare in campo e una capacità di creare occasioni, di essere sempre determinati, pagati carissimi due errori che hanno fatto, però poteva sicuramente riaprirla la partita e poi lì chissà come sarebbe andata a finire. Poi i giocatori forti risolvono le partite e a ogni minimo errore ti puniscono. Quello che non ha fatto il Marocco ha fatto la Francia. Però oggi è questa voce di Unai, questo giocatore centrocampista che potrebbe piacere all'Inter, i prezzi ovviamente, quando succede che c'è una vetrina come il mondiale, i prezzi quintuplicano almeno e quindi diventano poi inaccessibili per le nostre formazioni. Io credo che, ecco, ci insegna questo, che il calcio sempre più globalizzato e giocatori che giocano magari in nazionali fino a qualche tempo fa, considerate marginali, periferia calcistica, diciamo così, diventano di grande e di grande attenzione e devono essere guardati con oculatezza da parte degli scout di mercato. Perché prima però dei campionati del mondo, prima dei campionati europei. Questo è quello che bisognerebbe fare. Perché poi, dopo quando diventano forti in un campionato del mondo, in un campionato europeo, diventano inaccessibili per noi. Quindi bisogna essere bravi a prendere come è stato fatto. Per esempio, Amrabat è un giocatore che ha fatto una grandissima stagione al Verona e poi si è, anche se ha avuto poi un problema, un infortunio l'anno scorso, quest'anno è ritornato l'Amrabat che conoscevamo e ha dimostrato al mondiale di essere questo tipo di giocatore. Ecco, però bisogna andare a cercare gli Amrabat, bisogna andare a cercare gli Unai, bisogna andare a cercare i Dumfries anche, anche se l'Inter poi era già conosciuto, l'aveva conosciuto attraverso poi il campionato europeo. Però, dico, bisogna avere la forza, la tenacia e anche l'acume sul mercato di andare a cercarli prima degli altri. Questo è segreto. Pensando che poi, ovviamente, per il tipo di campionato, per i soldi che girano il nostro campionato potrebbero essere di passaggio. Però, che passaggio direi? Cioè, bisogna averli qui a disposizione perché poi diventano anche interessanti dal punto di vista economico. Prendere giocatori magari sconosciuti per poi rivenderli a società che in questo momento pagano 80, 90, 100 milioni. Questo sembra il segreto di Puccinella, ma è davvero questo il segreto in questo momento per fare mercato e per essere una società oculata dal punto di vista economico, visto che i conti sono sempre in difficoltà e sono sempre, per molte squadre, sono sempre un tallone d'Achille. Ecco, una cosa sulle milanesi. Volevo aggiungere, Milan, Maldini ha parlato di Leao, si sono sentiti durante il mondiale, eccetera. Penso che sia importante per Leao, l'avevamo già ribadito, penso sia importante rimanere al Milan in questo momento perché deve capire che il Milan è la dimensione per lui in questo momento giusta per poi fare determinate scelte. Penso che Maldini possa essere garanzia, come lo ha fatto per Teo Hernandez, possa essere garanzia per Leao di avere un avvenire importante senza bruciare le tappe. E Teo sta dimostrando che ha avuto fiducia in Paolo Maldini e lo ha ripagato. Insomma, entrambi sono stati ripagati dalla fiducia che si sono dati in quel famoso incontro di Ibiza. Per quanto riguarda l'Inter, in gruppo Lukaku e questa, secondo me, visto che Lukaku, secondo me, è un giocatore che diventerà e sarà molto importante in questa stagione per l'Inter. Da gennaio in poi, l'averlo ritrovato in gruppo e potersi allenare con il gruppo in un certo modo per l'Inter è certamente un salto in avanti per questa seconda parte di stagione. Grazie a tutti e ci vediamo sempre qui e seguiteci sul nostro canale YouTube.